Se Rita si innamorava di un avvocato che odiava il cinema e dava tanto anno era peggio mentre noi lavoravamo insieme ma quello che ti voglio raccontare è questo, che la sera era da poco che gli avevamo detto questa cosa e la sera dell'Oscar proprio, dopo tutto il passaggio dietro le quinte delle cose arrivo in una saletta con l'Oscar in mano, c'è Diego e i membri dell'Academy per bere una cosa e all'improvviso mentre siamo lì si apre una porta in fondo a un corridoio e vediamo Rita che corre verso di noi in seguita dalla security, quindi automaticamente tutti e due diciamo no, è mia moglie